Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Siamo all'episodio 6 di questa serie dedicata all'educazione finanziaria ed oggi parliamo di tasse, imposte e contributi. Per chi fosse arrivato ora, fatemi giusto dire che la maggior parte degli argomenti di cui parlo in questa serie li ho appresi nei corsi di educazione finanziaria e di economia che frequentai al collegio di merito Lamaropozzani, dove vissi nei miei anni universitari a Roma. In ogni caso, tutte le fonti e tutto quello che ho letto per prepararmi per questa serie li trovate in descrizione. C'è un link a un sito che ho creato dove trovate tutto il materiale. Dicevo, le tasse. In realtà il termine corretto da utilizzare sarebbe tributi, anche se nel linguaggio comune ci riferiamo comunemente ad essi come tasse, che sono sostanzialmente dei prelievi di soldi dei contribuenti finalizzati a finanziare la spesa pubblica. I tributi, a loro volta, si distinguono in imposte, tasse e contributi, che vedremo nel dettaglio nel seguito. Prima però una parentesi sul perché si debbano pagare i tributi, cioè quale sia la ragione giuridica dietro a questo. Secondo la Costituzione, all'articolo 23, le prestazioni personali e patrimoniali, cioè il fatto che lo Stato possa prendere i nostri soldi, possono essere imposte solo con una legge. Sembra una cosa abbastanza scontata, ma ricordiamoci che l'Italia è una repubblica democratica in cui il Parlamento è eletto dal popolo, quindi le leggi che impongono la tassazione traggono legittimità dal popolo stesso. All'articolo 53 si dice poi che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Significa che chi ha alti redditi paga di più di chi ha bassi redditi e che tutti, in un modo stabilito dalla legge, devono pagare per contribuire alle spese di cui lo Stato si fa carico, che favoriscono l'intera collettività. Come già detto nell'episodio 4, il ruolo dello Stato, con i soldi derivanti dai tributi, è quello di fornire infrastrutture, servizi pubblici, prestazioni sociali e sussidi. Che le tasse in Italia siano alte non è argomento di questo video. Lascio a voi dibatterlo. Qui mi limiterò a descrivere come siano queste tasse, imposte e contributi, perché non si può negare che il sistema fiscale italiano sia molto complicato. Cominciamo quindi dalle imposte, che si pagano a prescindere dal fatto che si fruisca o meno di un servizio, ma solo in virtù del presentarsi di determinate condizioni. Gli esempi più importanti che ci riguardano sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF, che si paga per il solo fatto di percepire un reddito, o l'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, che si paga ogni qualvolta compriamo un bene o un servizio. Già qui possiamo quindi distinguere tra imposte dirette, come l'IRPEF, che si applicano direttamente sulla ricchezza, e imposte indirette, come l'IVA, che si applicano invece quando la ricchezza viene trasferita o viene utilizzata. Oltre a queste possiamo anche citare l'imposta sul reddito delle società, l'IRES, le accise per esempio sulla benzina o sull'energia elettrica o sul gas naturale o su alcol e tabacchi, e anche il canone televisivo. Vediamo in dettaglio l'imposta più importante, cioè l'IRPEF, da cui lo Stato ha incassato lo scorso anno circa 220 miliardi di euro. Secondo il testo unico delle imposte sui redditi, il TWIR del 1986, che fece ordine nelle norme emanate precedentemente, deve pagare l'IRPEF chiunque abbia redditi, cioè questo è il presupposto dell'imposta. I redditi, cioè la ricchezza che nella maggior parte dei casi ci entra in tasca perché svolgiamo o abbiamo svolto un lavoro, possono essere di diverso tipo. Possono essere redditi da lavoro dipendente, se lavoriamo per esempio per un soggetto pubblico o privato. Possono essere redditi da lavoro autonomo, se lavoriamo in proprio offrendo in prima persona beni o servizi. Ci sono i redditi d'impresa, che riguardano le attività economiche che producono e vendono beni o servizi. Ci sono i redditi fondiari, che derivano dal fatto che possediamo un bene immobile e lo offriamo a qualcun altro, come ad esempio gli affitti, e i redditi da capitale, che si formano quando investiamo il nostro risparmio prestandolo ad altri soggetti tramite il sistema finanziario, di cui abbiamo già parlato negli scorsi due episodi e di cui parleremo ancora nei prossimi. A quanto ammonta quindi questa imposta? Con l'ultimo aggiornamento introdotto dalla legge di bilancio 2022, le aliquote dell'IRPEF, cioè le percentuali per le quali si moltiplica il reddito per ottenere l'imposta, sono quattro. Da 0 a 15.000 euro, il primo scaglione, ha un'aliquota del 23%. Da 15.000 a 28.000 euro, l'aliquota è del 25%. Da 28.000 a 50.000 euro, l'aliquota è del 35%. E infine, sopra i 50.000 euro, l'aliquota è del 43%. Cosa vuol dire nella pratica? Innanzitutto bisogna prima prendere il reddito annuo, che si percepisce, e sottrarre adesso le cosiddette deduzioni, cioè ad esempio le spese che si pagano per i contributi previdenziali, che vedremo alla fine del video, o le spese mediche per i disabili. E da questo si ottiene quindi il reddito imponibile. Successivamente si prende questo numero e lo si divide nei vari scaglioni. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo di avere un reddito annuo imponibile di 32.000 euro. La prima parte, da 0 a 15.000 euro, dovrà essere tassata al 23%. Quindi si calcola il 23% di 15.000, in questo caso, che è 3.450 euro. Quindi la seconda parte, da 15.000 a 28.000 euro, deve essere tassata al 25% e otteniamo quindi 3.250 euro. Infine, la parte rimanente tra 28.000 e 32.000 euro deve essere tassata al 35% e otteniamo quindi 1.400 euro. Sommando 3.450 più 3.250 più 1.400, otteniamo 8.100 euro, che è l'imposta lorda. Ma non è finita qui, perché dalla imposta lorda si devono sottrarre le eventuali detrazioni, cioè ad esempio le spese sostenute per motivi di salute, o per l'istruzione, o per i figli a carico. E ci sono anche delle detrazioni particolari per i redditi da lavoro dipendente o per le pensioni, che si calcolano sulla base del reddito percepito. Quindi l'imposta lorda meno le detrazioni dà l'imposta netta, che è quella che effettivamente si deve pagare. Le detrazioni in particolare fanno sì che, ad esempio, per i redditi da lavoro dipendente fino a 8.176 euro sostanzialmente l'imposta si annulla, perché il 23% di 8.176, 1880, è proprio pari al valore della detrazione spettante, in quanto questi sono redditi da lavoro dipendente. E quindi, prendendo l'imposta lorda meno la detrazione, otteniamo 0. Quindi comunemente si parla di questa zona di redditi come no tax area. Qualche anno fa, l'ufficio valutazione d'impatto del Senato aveva pubblicato questo grafico, per far capire quanto potesse essere incasinato il sistema fiscale italiano. Se infatti prima ho parlato, in modo piuttosto semplice, dei quattro scaglioni dell'IRPEF, le quattro aliquote di cui parlavamo, la giungla di deduzioni, detrazioni e bonus fa sì che in molti casi sia molto più complicato calcolare quanto sia l'imposta dovuta. Ed anzi, a volte si possono produrre degli effetti distorsivi, per cui se incremento di poco il mio reddito percepito, vado a finire in un'altra condizione in cui l'imposta magari è ben maggiore rispetto a quella che pagavo precedentemente. e quindi può essere che debba far fronte ad una spesa per imposte maggiore. Quello che vorrei fosse chiaro però con questo video è che le imposte non sono qualcosa di mistico e a noi inaccessibile. Semplicemente con addizioni, moltiplicazioni e sottrazioni, ognuno di noi può calcolare quale sia l'imposta dovuta, e fare cioè la propria dichiarazione dei redditi. L'ingrediente fondamentale però è la pazienza, ed è per questo che molte persone si avvalgono del servizio di un professionista o dei centri di assistenza fiscale, e quindi pagano perché questi soggetti facciano la loro dichiarazione dei redditi e gli dicano quanto debbano pagare gli imposte. Chi invece volesse fare da sé può utilizzare il cosiddetto modello 730, se lavoratore dipendente oppure pensionato. Non ho mai capito perché si chiami modello 730, quindi se qualcuno di voi lo sa fatemelo sapere nei commenti. Oppure il modello redditi, che possono anche essere in parte precompilati con i dati già a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Vi lascio in descrizione tutti i link se siete curiosi, e ovviamente ci sono anche delle guide parecchio lunghe in realtà, ma che spiegano dettagliatamente come si debba fare questa dichiarazione. Per i lavoratori dipendenti, ma anche per alcuni lavoratori autonomi, i datori di lavoro o i committenti possono agire da sostituti di imposta, cioè trattengono parte delle somme che pagano come ritenuta da conto, e quindi poi la dichiarazione dei redditi permetterà di fare il saldo di quello che manca. Infine, alcuni soggetti possono anche essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come ad esempio nel caso di lavoratori dipendenti che sono interamente tassati alla fonte. Significa che il datore di lavoro trattiene già la loro imposta che gira allo Stato e fornisce loro, per dimostrare questo, la cosiddetta certificazione unica. L'imposta sul valore aggiunto, l'IBA, è la seconda voce di entrate per lo Stato, che l'anno scorso ha incassato da questa circa 200 miliardi di euro. La paghiamo tutti ogni qualvolta compriamo un bene o un servizio, perché è inclusa direttamente nel prezzo dei prodotti. E sa un'aliquota ordinaria del 22%, che scende al 10%, per esempio per l'energia elettrica o per il gas, per usi domestici, al 5% per alcuni alimenti e al 4% per i beni alimentari, per le bevande o i prodotti agricoli. Questa imposta grava direttamente sul consumatore finale, perché tutti i soggetti intermedi, cioè quelli che prendono parte alla lavorazione del bene o servizio, da materia prima a prodotto finito, si rivalgono dell'imposta sul soggetto successivo a cui vendono il prodotto, il semilavorato. Parliamo adesso delle tasse, che tecnicamente sono legate alla erogazione di una controprestazione da parte dello Stato nei confronti del contribuente. Sono esempi le tasse scolastiche, la tasse sullo smaltimento dei rifiuti o la tassa di soggiorno. Al contrario delle imposte, che finanziano opere di cui beneficia l'intera collettività, nel caso delle tasse si possono identificare i soggetti che beneficiano di queste controprestazioni, ed è per questo che solo questi vengono tassati. In totale, imposte e tasse portano allo Stato circa 570 miliardi di euro, almeno nel 2022. Infine, abbiamo i contributi, che servono a finanziare le prestazioni sociali, come ad esempio le pensioni, o la copertura dei rischi contro gli infortuni o le malattie. Il sistema pensionistico, in particolare italiano, è detto a ripartizione, cioè i contributi che vengono versati dai lavoratori di oggi non vengono accumulati, ma vengono utilizzati per pagare le pensioni a chi ne ha diritto oggi. Come vedremo, se invece mettiamo via per conto nostro i nostri risparmi per costruire la nostra pensione, in aggiunta ovviamente ai contributi che dobbiamo versare all'Inps, per esempio, in quel caso utilizzeremo un sistema detto a capitalizzazione. Il metodo di calcolo delle pensioni in Italia è detto contributivo, perché l'ammontare della pensione dipende da quanti contributi sono stati versati nell'arco della vita lavorativa. Una cosa importante da sottolineare è che i contributi versati all'Inps non bastano di per sé a coprire la spesa di tutte le prestazioni sociali, quindi non solo le pensioni, ma anche ad esempio l'assicurazione contro gli infortuni. Sul totale di circa 380 miliardi di euro di prestazioni sociali erogate, lo Stato mette circa 157 miliardi di euro, cioè un trasferimento di risorse dal bilancio dello Stato verso l'Inps che viene coperto con i soldi derivati da altre imposte o tasse come quelle che abbiamo visto precedentemente. Quindi, per ricapitolare, pagare le tasse, che in realtà abbiamo visto sia meglio chiamare tributi, è un dovere, ed è pure complicato capire come funzioni il sistema fiscale, ma pagarle è necessario perché lo Stato possa garantire alla collettività servizi quali l'istruzione, le pensioni o la sanità. Se e quanto i tributi in Italia siano elevati, sta a voi dirlo, ma spero con questo video di aver fatto un po' più di chiarezza sul sistema fiscale italiano. Quindi questo era tutto quanto volevo dirvi in questo sesto episodio della serie dedicata all'educazione finanziaria. Condividetela con le vostre amiche, i vostri amici, i vostri conoscenti e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video! Noi ci vediamo al prossimo video!